Un'idea da far battere il cuore Tovagliolo piegato a forma di cuore Apriamo un tovagliolo di carta e creiamo 4 triangoli corrispondenti ai 4 angoli del tovagliolo Ora facciamo la piegatura di un lato e poi di quello opposto Lasciando però tra una piegatura e l'altra la distanza di circa mezzo centimetro Una volta ottenute le due piegature le metteremo una sopra l'altra in questo modo Prenderemo poi come punto di riferimento il centro E faremo una piegatura a sinistra verso l'alto e la stessa cosa a destra In questo step è importante che i bordi interni delle piegature combacino perfettamente l'uno con l'altro Non ci resta che modellare la parte superiore piegando internamente i 4 angoli del cuore Avendo cura di inserire la piegatura all'interno del tovagliolo Una semplice piega romantica per la festa di San Valentino Un'idea semplice da fare è alla portata di tutti L'ideale per apparecchiare la tavola di San Valentino, di un anniversario o per una cena speciale Clicca su blog Pianeta delle Dei per vedere il post completo E se non ti sei iscritto iscriviti Così aiuterai a far crescere il canale di Pianeta delle Dei E non perdere il prossimo video su come apparecchiare in modo semplice e creativo la tavola di San Valentino Melchak per Cianeta delle Dei